Per noi, tutti gli stanzi, quelli vecchi, di chi ciò, danno del momento a liberarmi. Spettacolare. Se pensi che le hanno fatte 5.000 anni fa? No, un po' di meno. E basta, non chiese, sono qua. E' un'altra stanza, non basta riesce. Sopra, sopra, sopra. No, di tempo, adesso. Prima sono quasi 20 anni fa. E' alta con me, Gigi.